chiamo adesso il dottor arturo armone caruso uno ci sei presente eccoci qua carissimo amico e ora citerò tutti i tuoi titoli eh direttore sanitario dell'aias diafragola direttore della uo diagnostica otorino laringoiatrica della citologia nasale sei un cultore in questo periodo del mastocita su cui ci farai una relazione brillante questa cellula che si pone in una posizione chiave ha un ruolo molto più importante di quello che siamo forse abituati almeno alcuni di noi sono abituati ad assegnarvi quindi ti invito a iniziare la tua relazione ti ricordo che hai trenta minuti a disposizione grazie allora diciamo innanzitutto ringrazio tutti per la la mia il mio invito all'evento eh e quindi eh iniziamo a parlare un poco di questa questo argomento mastocita no? Cioè eh uno è stato uno dei primi mh organi o delle prime cellule che di cui io mi sono affrontato durante i miei studi di citologia nasale e quindi in effetti di cosa ne parliamo? Tutti ne parlano diciamo questo sconosciuto ma in effetti cosa sono? Qual è la loro funzione che noi tra l'altro noi troviamo spesso nei nostri studi e nelle nostre osservazioni microscopiche? In pratica da dove nasce? Nasce dal diciamo dagli studi che Erlich fece nel 1878 che identificò i mastociti e tra l'altro definì come mast cell e aveva eh il significato di in pratica di ehm fonte di cibo per le cellule di eh limitrofe ma in effetti questo non è perché se noi andiamo a vedere lo stato attuale eh delle mastocite e quelli che producono guardate tutto tutto ciò che vengono eh che il mastocita produce e tutto diciamo lo scibile del del diciamo delle strutture pro infiammatorie tant'è vero in pratica agisce fondamentalmente nel rapporto che il mastocita agisce attraverso la formazione dell'asma che noi ovviamente noi conosciamo attraverso le varie le varie attivazioni le varie le varie azioni tra le le chemochine le istamine anche attraverso la stimolazione di nervi con la vasodilatazione con la bronco di eh bronco costrizione quindi sono veramente la potrei definire come la il regista primo di tutto quello che accade nel nostro organismo da un punto di vista infiammatorio e anche e anche diciamo delle difese ma in pratica spesse volte eh con la colorazione che noi osserviamo a livello microscopico il mastocita assume una eh con la colorazione Mergoldi-Ghiemza assume una colorazione diciamo basofila no? Con questo come dice il nostro maestro Matteo Gerardi rosso eh rosso rosso cardinale ma tra l'altro il mastocita eh ha eh si differisce a livello della eh della diciamo delle altre cellule dal basofilo anche se sono simili ma in pratica non sono la stessa cosa sia per le attività sia per la produzione di di cellule e sostanze infiammatorie ora eh questo ovviamente è un modello di come ovviamente avviene la produzione del del mastocita a livello diciamo eh diciamo dei topi ma soprattutto è legato ecco alla eh alla attività ecco da dove deriva da un punto di vista eh da un punto di vista embriologico il mastocita il mastocita deriva dal cellule mieloide eh che ovviamente attivano attraverso una evoluzione del basofilo progenitore da cui ovviamente deriva il basofilo e la mast cellula quindi eh eh quindi c'è anche un elemento molto importante di quello che poi rientra nelle difese immunitarie di tipo sistemico di tipo locale ovviamente anche di di eh derivazione embriologica delle diverse delle diverse strutture cellulari. Questo ovviamente è una tabella più esplicativa dove si documentano tutte le attività di come vengono svolte, come si producono da un punto di vista eh anche embriologico e quali sono le sostanze eh ossia i mediatori che favoriscono la crescita del dello sviluppo delle delle mastocelle. Come si vede sempre dalle cellule mieloidi ci sono una serie di attivazioni di tipo eh di tipo eh di tipo secondario o di tipo eh 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 che biochimico che attivano la produzione di delle cellule eh delle mast cellule. E anche questo da una una situazione ancora molto più importante di quello ancora molto più più chiara di quello che poi in effetti è l'evoluzione delle delle mast cellule come si vede ovviamente dall'attività delle varie produzioni del di tutte le cellule del sistema immunitario. Ora l'attivazione delle mast cellule come abbiamo visto attiva una serie di complessi di sistemi che agiscono a livello eh del del recettori attraverso i recettori agisce attraverso il discorso dell'antigine e poi man mano a cascata si attivano una serie di eh attivazioni dove viene attivato il mastocita dove eh agisce attraverso dei mediatori pro infiammatori. Questi infiammatori sono le proteasi preformate quindi che sono associate a granuli e proteoglicane per esempio le parine oppure alle mine bioattive oppure come l'istamino e quindi viene rilasciato ovviamente dalla degranulazione oppure possono essere eh dovute anche eh alla liberazione di metaboliti di nuova sintesi oppure può produrre diverse citochine che possono essere dall'interlochina quattro interlochina tredici e diciamo e tante altre attivazioni. Ora eh per quanto riguarda l'attivazione di quello che può essere il discorso del mastocita è legato anche all'attivazione del rapporto del mastocita che possono legare anche le leggi e perché in questo caso può essere sensibilizzato a più antigeni, può rilasciare mediatore a concentrazione di antigeni più basse, può rilasciare quantità maggiori di prodotti risposti agli anticorpi e può rilasciare prodotti aggiuntivi come ad esempio l'interlochina quattro dei mastociti di topo è risposta alle stimolazioni con degli anticorpi. Ma in pratica eh 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 l'attivazione dei mastociti sono derivati anche da altre situazioni. Tant'è vero eh vengono generati da derivazione del sangue del cordone umbilicale con una purezza del novantotto 99 per cento. Quindi d'altronde c'è una si è un'attivazione di sensibilizzazione di mastociti con mioloma umano. Poi in effetti ci sono dei mastociti eh che che sono legati all'attivazione eh a delle alcune IgE poi si può anche valutare la percentuale del rilascio dell'istamina in un'ora recupero l'RNA. Questo ovviamente è legato anche all'attività di quello che è la eh diciamo la derivazione embriologica e la e la derivazione di ordine eh di ordine genetico delle attività dei mastociti come si vedono diciamo da queste diapositive che stanno scorrendo ovviamente che sono molto molto elegante e sono molto legati a quelle che sono le produzioni di eh diversi eh sostanze proinfiammatorie. Ora come vediamo ecco l'attivazione del linfociti del mastocita è molto molto complessa dove ovviamente c'è tutto un percorso legato ai recettori alle attività linfocitarie dove ci sono eh fattori di incontro e fattori di attivazione legati a quelli che possono essere tutte le varie procedure di collegamento in questo caso dove si vede l'attivazione linfocitaria eh e eh dell'attivazione del mastocita guardate sono delle cascate che vanno a produrre tra l'altro la produzione dell'acido eh arachidonico metabolismo delle chemochine ovviamente che portano ovviamente alle degranulazioni. Ora ovviamente nell'ambito di quelli che sono le attivazioni mastocitarie che sono veramente di notevole eh notevole complesse ovviamente rientrano soprattutto nell'ambito di quelli che sono le attivazioni all'interno del nostro organismo. Quando prima nelle diapositive precedenti ho fatto osservare quelli che sono i mh le attività biochimiche ma adesso ma qual è la loro attivazione dell'invasione? Qual è il loro qual è il loro percorso? Il loro percorso ovviamente è dato da da eh diverse ehm diversi 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 prodotti che vanno dall'origine alla la trasmigrazione la differenziazione ovviamente e poi la 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 diffusione all'interno di tutti gli organi. Quindi in effetti noi mastociti li troviamo non solo nelle mucose ma li troviamo in tutti i distretti dove ovviamente ehm a livello cerebrale, a livello cutaneo, a livello polmonare, l'erare, a livello cardiaco ovviamente con delle opportune differenziazioni. Tanto è vero negli studi che sono stati fatti noi abbiamo nelle eh soprattutto nei topi abbiamo delle differenziazioni dei dei mastociti in eh tessuto mastociti delle mucose e mastociti legate al connettivo. Tanto è vero a sua volta quelli delle mucose eh sono associati soprattutto all'epitello del polmone del fratto gastrointestinale che ahm che eh esprimano delle eh le delle chinasi di due tipi. Poi abbiamo eh delle eh mastociti che sono del tessuto connettivo e quindi sono presenti nella sottomucose intestinale, nel peritoneo, nella pelle e quindi sono caratterizzati dalla produzione di altre ehm di altri sostanza, altri mediatori. Ma in effetti nell'uomo a sua volta ci sono classificati anche altri titi mastociti che che esprimono soltanto le trippatasi oppure che le estrimono le trippatasi e le chinasi e le eh le cipia tre. Ora in effetti eh io come citologo nasale ehm quando ho osservato i mastociti e ne trovo molti e mi sono sempre interessato e mi sono sempre eh ho sempre cercato di capire la loro funzione e ho anche cercato di eh dare una connotazione a livello sistemico soprattutto in quei soggetti in cui da un punto di vista immunologico e da un punto di vista di ehm rapporti allergi fondamentalmente non avevano delle allergie e quindi dove generalmente lo trovate? Lo trovate nell'attivazione dei piccoli vasi, nell'attivazione dei grandi vasi diabete di tipo 1 e nei soggetti affetti da psoriasi. Trovate soprattutto soprattutto nell'attivazione dei piccoli vasi ho riscontrato una notevole presenza di mastociti soprattutto nelle microvasculiti da eh in cui in quei soggetti che avevano avuto la una una vertigine parossistica posizionale benigna. Questo per esempio è un'osservazione al microscopio ottico confocale di una di una della congiuntiva dove abbiamo esaminato questi soggetti affetti da microvasculiti dove si vede dove è individuato con la freccia in questo punto ecco qui dove si vede una restrizione ed un'alterazione di quelle che sono i pericidi eccolo qui che si può notare della della alterazione del eh secondaria all'attivazione masto mastocitaria. E questo ovviamente è il mastocita che abbiamo trovato in questi soggetti affetti da microvasculite e vertigine parossistica posizionale benigna. Altri aspetti che abbiamo ritrovati abbiamo trovati per esempio nei soggetti affetti da psoriasi in alto a sinistra ovviamente e soggetti affetti di diabete di tipo 1 in basso come si vede in basso a destra. Ma il mastocita non rientra esclusivamente diciamo nelle forme di tipo infiammatorio diciamo dei vasi ma rientra in tutto un serie di sistemi dove agisce non solo a livello della 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 del dei vasi o dell'acute ma agisce soprattutto a livello cerebrale. Tanto è vero si è visto in alcuni studi che eh uno stress cronico o uno stress acuto agisce un aumento della attività mastocitaria con conseguente attivazioni delle eh della cascata infiammatorio dovuto al mastocita che comporta come effetto collaterale malattie tipo eh demenza o tipo di tipo di tipo Alzheimer. E c'è anche un altro aspetto interessante di come ecco il mastocita agisce in un complesso più ampio di quello che noi possiamo immaginare. Agisce attraverso in correlazione con l'intestino e con il microbiota intestinale, soprattutto attraverso uno stress comporta un sistema vizioso di alterazione di tutti quelli che possono essere collegati alla alla sofferenza che sia a livello cerebrale con con l'attivazione di un sistema endocrino quindi alterazione della circolazione quindi attraverso sempre questa attivazione di sistema infiammatorio di fattori ehm eh di eh di infiammazione ovviamente e di citochina ovviamente questo ovviamente noi ritroviamo soprattutto in quei soggetti che durante la loro vita hanno svolto una serie di attività molto molto stressante molto molto ehm eh legati a fattori di tipo eh di tipo di tipo di sofferenza cronica quindi il futuro è quella di cercare a mio avviso di della modulazione del dei mastociti perché il mastocita come abbiamo avuto modo di dire rientra in tutte quelle situazioni infiammatorie infiammatorie quindi non rientra a mio avviso soltanto nelle forme delle allergie che noi diciamo ben conosciamo ma una cosa molto molto più complessa e a mio avviso avremo anche molto molto tempo di studio per approfondire sempre di più tanto è vero ovviamente come si vede da queste situazioni da questa diapositiva le varie le varie attivazioni della della del mastocita come abbiamo accennato prima e come si vede addirittura soprattutto nell'attivazione del del nervo e della sensibilità dolorifica del nostro sistema è proprio su questo su questi argomenti e su questa importanza che i luoghi mastociti recentemente eh il gruppo dell'american academy of allergy asthma immunology ha creato questo questa commissione di eh studio per quanto riguarda le attivazioni per quanto riguarda le eh diagnosi e trattamento dell'attivazione dei mastociti quindi abbiamo dopo quindi questo cosa significa? significa che ci sarà ancora e c'è ancora uno studio molto approfondito e nella speranza ecco di poter in un futuro migliorare la qualità della vita e attraverso il miglioramento della qualità della vita abbattere ciò che legato alla 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 funzionalità mastocitaria e su queste parole ecco mi piace chiudere con questa eh con cui con questo quadro di Bardellino del collegio medico ceruzzico degli incurabili della farmacia storica dove c'è la luce che dà al futuro la la nostra possibilità di vivere e di attivazione di quello che è la nostra vita di relazione del nostro mondo sociale con questo vi ringrazio per l'attenzione scusatemi se sono stato un po' imbroglioso come si suol dire no Arturo ti ringraziamo moltissimo per questa relazione eh che veramente ci accompagna no dalla mi piaceva l'immagine del mastocita a cavallo tra il cervello e l'intestino quando si dice eh intestino secondo cervello sembra quasi che quello che fa da tre d'union sia proprio questo mastocita quindi un focus molto importante eh ti ringrazio veramente e grazie a voi. Cilla mi dai solo un secondo? Mi fa piacere quello che ha detto il collega perché proprio in quell'ospedale degli incurabili furono fatte delle prime sperimentazioni in Italia sull'utilizzo dei cannabinoidi nei pazienti asmatici. Sì. Sì. Bravo hai fatto bene. Allora la cosa deriva dalla cannabis sativa dalla cannabis nostrana. Certo. Cioè praticamente ci fu eh ma non solo su questo ma fu anche utilizzato per quanto riguarda il discorso delle patologie della tiroide. Quindi eh questo è un argomento molto molto interessante da cui potremmo secondo me farne anche un un evento eh. Sì mi piaceva sottolineare questa cosa che è bellissima. Non solo è bellissima mi fa piacere questa interazione tra noi che sicuramente vivacizza anche i nostri amici e colleghi che ci ascoltano per cui ricordo che tra mezzogiorno e mezzogiorno e mezza ci sarà lo spazio per le domande alcune sono già arrivate e potrebbe essere proprio un momento di interazione come questo di arricchimento di scambio che va oltre le relazioni per cui grazie di questa eh spontaneità e di questo recall così importante.